Il Movimento 5 Stelle prende posizione sulla chiusura del reparto riabilitazione dell'ospedale di Arco, una decisione che contribuisce al costante e perdurante depotenziamento dell'ospedale di Arco. Ci uniamo allo sconforto e al rammarico dei medici, scrivono i 5 Stelle, degli operatori sanitari e dei pazienti del reparto di riabilitazione per tale chiusura, peraltro già nell'aria da tempo. Se per il punto nascita e la medica si è trattato di scelte provinciali, è ipotizzabile che in questo caso si sia trattato più di decisioni prese all'interno dell'azienda ospedaliera come presa d'atto di un'errata programmazione e gestione dimostrata anche dal fatto che il costo quotidiano a posto letto in questo reparto ammontava nel 2015 a 756 euro, come indicato dall'assessore Zeni in risposta ad un'interrogazione del consigliere provinciale Giovanazzi. Inutile ricordare, proseguono i pentastellati, che alle strutture private, come ad esempio Eremo, che forniscono di fatto un servizio pubblico al cittadino per la riabilitazione, come fosse in ospedale, viene riconosciuto dalla provincia, a fronte della convenzione stipulata, un importo quotidiano di 237 euro a posto letto. Crediamo dunque che bene farebbero i vertici dell'azienda ospedaliera e i dirigenti provinciali ad assumersi buona parte di responsabilità per questa ennesima sconfitta di un reparto di una struttura pubblica. D'altro canto non ci risulta, dicono il consigliere Rullo e gli altri componenti dei 5 Stelle, che il costo della riabilitazione a Villarosa a Pergine siano più bassi e ciò nonostante l'azienda sanitaria provinciale vuole centralizzare tutto in quella struttura, addirittura facendo la guerra alla casa di cura Eremo, che vedrà decurtare anche quest'anno il proprio budget con una diminuzione di posti letto di circa il 30%. Cento.